Kemmel Gibson non sia uno degli attori più accomodanti dello showbiz e cosa nota a tutti. Sappiate che l'attore premio Oscar è stato accusato di aggressione da parte di una fotografa e che ora la delicatissima vicenda occorsa a Sydney, mentre l'attore e la sua giovanissima fidanzata 24enne erano usciti da un cinema nei pressi di Paddington è al vaglio degli inquirenti. Christy Miller è una reporter del Daily Telegraph di Sydney, che ha avuto l'ardire di scattare qualche foto a Gibson e compagna mandando su tutte le fure l'interprete di Braveheart. Mi ha sputato in faccia e mi ha urlato contro, dandomi della cagna, dicendomi che non sono nemmeno un essere umano, ha riferito la fotografa, in merito all'aggressione subita dal premio Oscar la sera del 23 agosto. Mel Gibson ha ritrovato la calma solo quando la fidanzata gli ha messo una mano sulla spalla dicendogli di smetterla e poi si è scusata con la Miller. Adesso la polizia sta ricostruendo le dinamiche del presunto attacco e invita chiunque fosse stato presente al supposto scatto d'ira dell'attore a fornire la sua testimonianza.